Da febbraio a giugno al Teatro Machiavelli in Piazza Università, laboratori e stage di teatro, musica e intercultura organizzati dall'Associazione Ingresso Libero in collaborazione con la Fondazione Lamberto Pugelli e il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Si inizia il 9 febbraio con il Laboratorio di Attività Corale, poi ancora Teens Play, gioco teatrale vietato ai maggiori. Per gli adulti è pensato offline. Per chi ha una buona pratica di uno strumento musicale, avviamento alla composizione musicale. Comprendere la musica classica è un percorso di guida all'ascolto. In collaborazione con Isola Quassud Born to Play, laboratorio multietnico per giovani stranieri e italiani e con l'artista By Guy, colori e ritmi dell'Africa per i piccolissimi. Per i grandi, Batik, scoprire l'Africa con l'antica tecnica di pittura dei tessuti. In collaborazione con Culture Possibili, Teatrabilità, per insegnanti, operatori sociali, psicoterapeuti. E per finire, Arlecchino e i suoi segreti. Stage di Enrico Bonavera, il celeberrimo Arlecchino di Streller dopo il grande Ferruccio Soleri. Grazie a tutti.